Entra nel vivo il progetto di commercializzazione dei prodotti realizzati all'interno dell'Officina delle Culture Gelsomina Verde, cuore pulsante del cambiamento e della rivoluzione di Scampia. L'iniziativa sarà presentata venerdì 3 febbraio alle ore 11.30 alla Corte Italiana a Rende, luogo preposto alla vendita dei prodotti solidali. Saranno presenti Ciro Corona, leader del movimento Resistenza Antica Morra, Giancarlo Costabile, ideatore e docente del corso di pedagogia della Resistenza all'Università della Calabria e Michele Inserra, giornalista. Officina Verde è una struttura sottratta al degrado grazie all'impegno dell'Associazione Resistenza, che in pochissimi anni ha trasformato una scuola abbandonata, ricovero per tossicodipendenti, in un centro d'eccellenza produttiva e sociale dell'intero meridione. Grazie alla sinergia creatasi tra il corso di laurea di Scienze dell'Educazione dell'Unical, che con il progetto di pedagogia della Resistenza ha sposato la filosofia dell'Associazione all'impegno profuso da Network Pubblicità, sostenuta dal gruppo ADN Italia, si è creato un asse virtuoso tra Campania e Calabria, che ha trovato in un giovane imprenditore calabrese, Guido Ricchio, un interlocutore entusiasta di promuovere la vendita di vino, olio e marmellate solidali nel proprio store, per incentivare un'economia legale ed eccellenza. Grazie.